È stata presa in modo positivo. Ad Arezzo per presentare quelle che sono le case history, le cose già fatte per il Rurale Sociale Marche. La rete è importante da creare fra le situazioni e le aziende. Sì, è un compito assolutamente piacevole in quanto il percorso fatto dalla Regione Marche, nella quale in questo percorso l'Assam ha collaborato con il piccolo tassello della formazione, è arrivato a conclusione attraverso il coinvolgimento di numerose aziende. Queste aziende hanno raggiunto sicuramente dei risultati molto positivi. Parlare soltanto di teoria e non far vedere quello che è successo realmente nel comparto produttivo agricolo marchigiano sarebbe limitativo. Quindi l'idea è proprio quella di far dire ai diretti interessati che cosa vuol dire per loro agricoltura sociale e che cosa comporta, sia come eventuali difficoltà ma soprattutto come aspetti positivi, che ce ne sono molti. Grazie. 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 Grazie.